Musica Siamo in provincia di Pesaro Urbino, oggi è una splendida giornata di sole, siamo a San Lorenzo in campo e siamo all'azienda biologica Luzzi, siamo venuti a trovare i nostri amici che producono queste farine straordinarie e questa pasta buona, buonissima Guardate, io vi invito a prestare attenzione a questo Guardate che meraviglia questa terra è da qui che nasce tutto Ciao, buongiorno, mi chiamo Gianluigi Luzzi, siamo all'interno dell'azienda agricola Luzzi Gianluigi Andrea dove abbiamo un impianto molitorio con dei silos di stoccaggio e un impianto di macinazione a pietra La pietra ci restituisce delle farine integrali, integrali vere, non ricostruite con le quali poi otteniamo della pasta e facciamo poi anche del farro perlato e appunto delle farine confezionate in atmosfera produttiva per potersi mantenere per due mesi Adesso vi accompagno all'interno dello stabilimento dove possiamo vedere il percorso che fa principalmente il farro perché lavoriamo principalmente il farro e tutte le fasi di lavorazione Grazie a tutti Vi saluto, vado a fare shopping Sono nel posto più biologico del mondo, sono in mezzo alle paste Luzzi impastata Grazie a tutti Grazie a tutti